Nelle chiese, particolarmente italiane, ma dedotte da quelle francesi, noi abbiamo una singolare presentazione della vita di Cristo che viene chiamato i compianti. Deriva dal Vangelo, in cui leggiamo che c'era sotto la croce Maria, sua madre, ma c'era anche Giovanni, Maria di Magdala, Maria, madre di Giacomo, Maria di Salome, Giuseppe d'Arimatea, che chiese il corpo di Gesù e lo depose nel sepolcro, nella roccia. E così che allora si è cominciato a raffigurare questo momento con una tomba scavata nella roccia e si facevano nelle chiese delle grotte, degli anfratti, delle nicchie, che in qualche modo assomigliavano alla tomba di Cristo, non solo con delle pietre per chiudere la tomba, esattamente come abbiamo visto nel testo di Marco che abbiamo letto. I personaggi dei compianti, quindi, vengono ad essere Cristo di Nazareth al centro, Maria, madre di Gesù, Maria di Cleofa, che è la madre dell'aposto Giacomo il minore, Maria di Salome, che è la madre degli apostoli Giacomo e Giovanni. E quindi Maria e le altre Marie sono rispettivamente la madre di Gesù, la madre di un apostolo e la madre di due apostoli. Ma vi è anche la Maddalena, che è la convertita, e vi è Giovanni, apostolo ed evangelista, che brilla per la sua giovane età e per la fedeltà, che è stato sempre presso Cristo. Ma vi è anche Giuseppe d'Arimatea, che è sinedrita, che dona sindone e tomba al Signore. E vi è Nicodemo, sinedrita pure lui, che visitava Gesù di notte. Questi due sinedriti appartenevano al sinedio, che era di 70 componenti, e furono loro che votarono contro la condanna di Gesù, a difenderlo contro tutti gli altri, che invece furono decisamente propensi a una condanna e a presentarlo a Pilato. I compianti in Francia, che giustamente vengono messi, vengono chiamate le messe tombò, il momento in cui si depone il corpo del defunto nella tomba, e quindi lo si fascia, secondo il costume orientale, con il lino, e che viene così coperto, ecco così come l'abbiamo in questa cittadina francese, nel 1480 è derivata questa composizione fatta nella roccia. Questa invece è più aerea, e la tomba non è stata fatta in una grotta, ma in un sarcofago romano, dove è raffigurato il sole della vita, e ci sono i personaggi disposti, esattamente come li troviamo nel brano evangelico, oppure in una grotta che viene particolarmente ornata, e impreziosita. Non è la roccia, è una tomba molto sontuosa, però Cristo viene mostrato, a volte in un velo, a volte in una sindone, a volte nella misericordia umana, che fa sì che si faccia l'ultimo gesto di onore verso il Cristo. A volte le sene sono molto agitate, o diciamo che sono molto sofferte, e quindi si mostra la drammaticità di tutto l'insieme. A volte sono, come in questo caso di nuovo, in una grotta, in qualche modo quasi come una stanza, oppure raffigurato ancora, come in quest'altro caso, sempre in Francia, che è la madre dei compianti, su una tomba sontuosa. e i personaggi addirittura vengono colorati per darne maggiore dignità. O in questo caso, in cui si vedono più e mezzo busto, e dove la tomba viene particolarmente evidenziata. I personaggi sono in grande lacrimazione, è il momento del dolore, dello sconforto, è l'umanità che ha perduto il suo sposo, è la Chiesa che ha perduto il suo Salvatore. E in questo modo si spinge il fedele a piangere sui propri peccati, a una conversione di vita, a immedesimarsi in una Pasqua che sta per venire. In Olanda, che copia, che prende l'ispirazione dalla Francia, si esprimono anche in molte tavole, in questo modo, dove Cristo attraversa tutta la composizione, ma vi è anche Maria, e vi è la morte di Cristo, ma vi è anche la trasposizione di Maria, tanto che, secondo una leggenda, ecco, Maria more sotto la croce. Ed è così che, unita alla sofferenza di Cristo, vi è quella di Maria, che vi è tutta la nostra, e di tutti i dolenti che si esprimano attorno a lei. Un anonimo laddese si esprime nel pennello in questo modo, ma andiamo nella nostra Italia, che ha avuto uno sviluppo enorme, soprattutto al nord, di questi compianti. Giotto lo raffigura nella Cappella degli Scrovegni, con una grande strada, che parte da lontano, che arriva fino a Cristo, e che è attorniato dai dolenti, dove gli angeli in alto, partecipano a questo dolore, e Giovanni, al centro, che apre le mani, e che manifesta attraverso il suo corpo ripiegato, il suo dolore, e anche il nostro. Il Beato Angelico, questa icone è andata a Torino per l'esposizione della Sindone, il Beato Angelico si esprime in questo modo fuori dalla città, nel momento in cui sta per essere sepulto, in una grande Sindone che lo accoglie, in un grande velo che lo accoglie, che era stato donato da Giuseppe e da Rimatea, e dove non ci sono soltanto gli otto personaggi soliti, che il Vangelo indica, ma vi è una folla, vi è anche ovviamente San Domenico, perché nasce nel convento di San Marco in Firenze. Botticelli, dopo la conversione operata per la predicazione del Savonarola, si esprime in questo modo drammatico, così pure un'altra tela in questo modo Botticelli, che lo pone nel momento in cui sta per essere deposto nella grotta scavata nella roccia. A Napoli ci si esprime in questo modo drammatico del Mazzoni, in quest'altro invece che sono più colorati. Ancora Modena si è espresso in questo modo attraverso una confraternita in cui tutti i personaggi ben colorati e drammaticamente esposti si manifestano attorno a Cristo. È una sofferenza grande, manifesta il dolore umano, questo addirittura il Begarelli in Sant'Agostino di Modena che ne fa una drammaticità, e dove i personaggi diventano ben tredici che vengono esposti, è il momento in cui Cristo, deposto dalla croce, viene dato in grembo alla madre. Grembo alla madre come l'aveva avuto da bambino, Grembo alla madre come ce l'ha adesso. Grembo alla madre alla Chiesa che accoglie Cristo tra le sue braccia, lo venera e si immedesima con Lui. Cristo quindi sospeso in alto sulle braccia di Maria viene a indicare e a sottolineare che Cristo è il figlio, che Maria è la madre e che noi partecipiamo alla passione del figlio e al dramma della madre che lo deve accogliere e quindi in questa espressione vi è tutta la teologia mariana e la teologia della nostra unione con Cristo. Ancora a Torino, il Merzagore nel Museo di Arte Antica, si esprime in questo modo più centralmente e in questa sofferenza. Nascono vicino ai compianti anche delle composizioni addirittura per ospitarli dei monti interi, come Varallo, che ha 45 cappelle, a Serralunga di Crea, il Sacro Monte di Orta, di Varese, di Europa, di Domodossola e anche ovviamente il nostro di San Luca. E il modo quindi di esprimersi, di far nassere delle confraternite, ci si esprimeva in questo modo andando e anche il nostro di San Luca dove si va in alto su un sacro monte accompagnati da un lungo portico che ti invita, che ti ospita, che ti accompagna e che fa sì che tu possa trovare in questo luogo che parte da giù a terra con un arco così ampliato che è nella zona del Meloncello e sale in alto lungo questa teoria interminabile di portici di una grande bellezza e di una visione sulla città che fa sì che tu pian piano possa lasciare le tue preoccupazioni e lasciarti sempre più invadere dal desiderio di poter vedere la madre del Signore. Ma a Bologna i compianti hanno avuto una particolare ampiezza e in Santa Maria della Vita Niccolò dell'Arche nel 1463 compone questo mirabile compianto che diventa il migliore che abbiamo l'artisticamente più espresso didatticamente per poter esprimere al meglio il brano evangelico e soprattutto manifesta il senso del dolore della partecipazione della trasfigurazione che il credente può avere via la statua di Giuseppe da Rimatea Maria di Salome Maria Madre di Gesù dell'Apostola Giovanni Maria di Cleofa e Maria Maddalena Vi sono molti commenti ai nostri compianti Il Ferretti si esprime in questo modo Giovanni è meditativo Maria di Salome urla verso la Vergine Cleofa è come avvitata dal dolore e il dolore esce da Maria Maddalena In San Domenico vi è un compianto un po' più ridotto di Baccio di Montelupo e l'Onofrine compone un altro policromo nella Basilica di San Petronio e che è espresso con particolare vigore vicino all'arte ferrarese In San Petronio vi è pure ad opera di Aspertini una magnifica tela Aspertini è quello che apre la scuola pittorica bolognese e il Lombardi ne fa uno molto ampio, solenne, classico, romano che è proposto nella cattedrale nostra di San Pietro Sono tanti quindi e di particolare pregio a Bologna questi nostri compianti Il Malvasia nel 1686 si esprimeva in questo modo commentando il compianto di Niccolò dell'Acca in Santa Maria della Vita Le Marie sono sterminatamente piangenti Il Malaguzzi nel 1922 si esprimeva in questo modo è la ribellione e il delitto contro l'uomo più buono che noi abbiamo conosciuto Argan si esprimeva in questo modo è il dinamismo della pittura ferrarese che qui si è proposto in scultura Il Lugli nel 1987 si esprimeva nel volto ci sono tutti i moti dell'anima per cui attraverso questi compianti risaliamo ai sentimenti di Cristo di Maria della Maddalena e di Giovanni Apostolo che erano attorno a Cristo Andrea Emiliani e contempla questo attraverso la passionalità borgogniana in quanto è dalla Francia dalla Borgogna e che sono partite in questi modi e che quindi noi li abbiamo rivissuti nel nostro modo secondo il loro modello Rondoni, poeta, si esprime in questo modo le mani non trovano appiglio e piangono nel vuoto Bortolotti si esprime e il dolore in carne e ossa oppure i personaggi sono muti però tu ne senti come le urla ed è così che Dario Fo si esprime è un dolore urlato una gestualità scossa da folate di vento Gabriele Adani si esprime il vento si schianta sulla Maddalena piangente i segni del dolore sono proposti con struggente visibilità oppure il vento del dolore forse invincibile di un materiale fragile tutti i poeti, artisti e ultimamente i giornalisti si sono quindi tutti avvicendati nel darne delle spiegazioni e tutti i giornali e tutti i maestri d'arte hanno visitato questo compianto e tutti coloro che vengono a Bologna vanno a visitare il compianto di Santa Maria della Vita è un maestro di anatomia si esprimeva l'altro avanti oppure sono come viventi che parlano oppure lei è Maria animate da spirito il nostro Eugenio Riccomini si esprimeva così verità dei riccioli dei denti del martello del panneggio dei mantelli dei veli rigidi delle pieghe dei vestiti manifestando quindi in questo modo quanto Niccolò dell'Arca fosse stato espressivo nei volti ma anche ben preciso in tutta l'ornamentazione da far sì che il compianto potesse lungamente parlare al visitatore che era un pellegrino che era un fedele che era un ricercatore che era un'estetica d'arte in definitiva un uomo che attraverso i segni cercava la verità il nostro sgarbi si esprime non vi è altro modo di rappresentare se non questo indicando nel compianto di Niccolò dell'Arca il modo vertice di tutta questa arte compositiva dei compianti Paolucci si esprime il rombo del sacro attraverso questo compianto e la senegalese è preoccupata nel far vedere che dalla Grecia e dalla Puglia si è arrivato il gusto del particolare del bello dell'elegante e che quindi i compositori come Fidia qui abbiano avuto la concretizzazione attraverso Niccolò dell'Arca è la teologia della morte che è visibilizzata in questi compianti e questa morte che qui è raffigurata dalla Francia dall'Olanda molti dalla Germania e ancora nei nostri italiani è questa morte che supera i confini di Gerusalemme e diventa modello universale sul modo come è vissuta questa morte è modello sul come è vissuto è Cristo che è abbandonato la morte e si dà al Padre il dolore nel volto dei presenti è vivissimo il dolore è espresso nelle mani con delle forme espressivi ed efficaci e visibilissime per cui è un itinerario di avvicinamento al più grande dolore che sia mai stato espresso e il volto è carico di dolore nell'omigliazione come in questo caso ma prelude a vittoria per la missione compiuta è un'opera che dona consolazione e fiducia non disperazione e non morte ma speranza alla vita certo che i presenti sono ben proposti nell'urlo che è un modo anche moderno di esprimersi l'urlo l'urlo umano l'urlo del dolore l'urlo della disperazione ma questo è l'urlo per aver fatto sì di avere fatto un'ingiustizia così grande è un dolore muto materno che è espresso in queste mani che addirittura si attaccano al proprio corpo i dolenti si sostengono nel dolore un dolore che è condiviso senza fuggire un dolore che è vissuto tutti insieme fraternamente è il pianto non solo dell'animo ma il pianto addirittura del corpo che qui è manifestato in un'attesa in una speranza in questo vigoroso Giuseppe d'Arimatea che guarda i penitenti che si accostano per invitarli a una partecipazione Cristo non annulla il male lo vive lo offre lo propone e fa sì di viverlo pienamente con un'umanità grande è il momento in cui Dio si manifesta nel dolore è il dolore che diventa così l'espressione di Dio e la sofferenza è il suo perdono che viene concesso non lo sfugge Cristo il dolore ma lo vive e fa sì che vivere il dolore attraverso Maria in una partecipazione completa il pellegrino possa immedesimarsi in questo e capire le ragioni della sua vita la forza della sua vitalità è un'opera altamente espressionista le Marie si difendono dal vento che squarciò il velo del Tempio e che farà poi risorgere Cristo e quindi i dolenti i penitenti i familiari di Cristo come in questo caso e i familiari sono la Maddalena i familiari sono Giuseppe d'Arimatea e il ricco è il povero i familiari sono le donne del popolo che attorno a Cristo diventano fratelli e dallo stesso sangue è l'urlo di tutta l'umanità che trova l'ingiustizia grande e che chiede al Signore una partecipazione il Signore risponde sì con la giustizia ma risponde anche con il perdono e la misericordia per far sì che il mondo sia ricomposto non nella violenza delle persone ma la solidarietà fra tutti i personaggi in una visione completa e si possa ritrovare la verità del volto delle mani della vicenda di tutto l'insieme si va al cuore del Vangelo il nostro Angelo Raul si esprimeva ci sono qui tutte le espressioni del dolore umano che è abbandonato in Dio che vive in fede e in speranza è un urlo è già l'urlo che diventerà poi il grido della risurrezione colui che è morto e risorto e risurrezione e risurrezione e risurrezione e risurrezione e risurrezione